Ho cominciato subito ad allenarmi, praticamente dopo due mesi già dall'incidente, con piccoli allenamenti. Può essere poliziotto in tutto questo, quanto conta quanto ha contato? Ha contato tanto perché comunque essere poliziotto per me è sempre stato tutto. Nel momento dell'incidente ho avuto veramente paura di perdere la risa. E' stato uno dei motivi per cui l'ho combattuto, perché volevo tornare a essere poliziotto. Nello sport? Anche, tantissimo. Tant'è che in questo periodo, a febbraio, mi sono anche lavorato in scienze motorie, ho finito gli studi. E mi ha aiutato veramente tanto, perché comunque fare gruppo, fare gruppo anche con altri atleti che sono paralibici, comunque disabili, ti ha aiuto tanto. Poi nello sport spero di arrivare alle pari olimpiadi. È ancora un percorso bello lungo, però non ce la metterò tutto.